Futuro ancora incerto per i circa 200 dipendenti della Vismara di Casa Tenovo. L'azienda specializzata nella produzione di insaccati e salumi fa parte del gruppo Ferrarini attualmente inconcordato. Negli scorsi giorni si è tenuto un incontro a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico fra sindacati e vertici del gruppo alimentare. Il quadro è ancora in fase di definizione. Il piano concordatario verrà elaborato nelle prossime settimane. All'orizzonte pare ci siano diversi soggetti imprenditoriali e finanziari decisi a rilevare le aziende del gruppo e proseguire l'attività. I problemi però non sono ancora del tutto risolti. Le criticità riguardano in particolare l'impianto di Casa Tenovo stando a quanto dichiarato dai commissari del Tribunale. Se gli impianti a marchio Ferrarini sono riusciti ad annullare le passività nel corso dell'ultimo mese per la Vismara la situazione finanziaria resta critica. La carenza di liquidità si ripercuote in particolare sulla produzione di salumi e insaccati. Non a caso la percentuale di casa integrazione su fruita dei lavoratori in questi reparti a Casa Tenovo è più del doppio di quella dei colleghi addetti al confezionamento. Addette dei sindacati di categoria in questa fase l'unico sostegno potrebbe giungere dalle banche che a oggi non hanno ancora allentato i cordoni della borsa. Risolvere la situazione anche se non in via definitiva le imminenti festività natalizie che comportano una crescita generale dei consumi specie dei prodotti alimentari. Oltre a queste difficoltà i 200 lavoratori di Casa Tenovo devono far fronte al mancato pagamento dei tre stipendi antecedenti la richiesta di concordato.